ma che bello è signori signori siamo di nuovo qui un po di energia perché sono arrivate oggi 17 11 le ricompense per le classificate anche a me se non mi sono ancora arrivate non vi preoccupate arrivano nel corso del tempo non appena finisce la stagione ed ecco qui luce in vittorioso la skin più brutta di tutto il gioco l'icona flex oro e l'icona solo più oro sono contento risultato tenuto nelle ultime settimane per le flex un po prima per me vabbè vedo che tutte le volte si riparte da zero non sapevo di avere questo nome neanche questo bello questo mi piace ma comunque ultime considerazioni sulle rune perché li abbiamo spiegate li abbiamo viste ma quindi queste rune in parole povere Andy queste rune cioè a cose servono perché perché allora vi faccio vedere riparliamo delle rune master in allora signori io vi faccio un esempio singolo poi voi prendete e ragionate allora non so se avete presente la formula 1 o gli sport di motori prima di trovare la quadra giusta ci vuole un sacco di tempo e non per tutti i circuiti non per tutte le situazioni la quadra può rimanere uguale anzi a volte bisognerà fare dei cambi io ora vi spiego allora mastery è un champ molto particolare che ha bisogno di rune che gli diano la possibilità di rimanere in combattimento dipendentemente dalla build che vuole andare a fare ora queste sono ci sono delle rune di base ogni champ ha le sue rune di base il conqueror per avere più danni e più cure il trionfo per avere la possibilità di continuare a combattere dopo ogni eliminazione la lacrità perché gli serve velocità d'attacco e il copo di grazia per essere sicuro di portare a termine la chi ora possono variare il ramo principale certo che può si può fare qualunque cosa in questo gioco queste sono le rune con cui io mi trovo meglio per quello che è il mio play style è chiaro che ci saranno mille consigli ovunque su quali rune utilizzare ma alla fine per quanto ci saranno le rune migliori di altre trovate la vostra comodità trovate la vostra situazione non fermatevi al ok tutti fanno questo quindi lo faccio anch'io perché no c'è stato un periodo in cui il master andava benissimo con le tal tempo e allora io lo usavo con le tal tempo ma perché andava bene a me mentre gli altri continuavano ad usare conqueror io andavo da dio con le tal tempo è così e va bene e ci sta ma parliamo finalmente di quello che è il ramo secondario ora nel ramo secondario potrete scegliere due rune non principali chiaramente io non ho consigli specifici per ogni cento per quanto io abbia delle idee chiaramente su quelle che sono i miei fattori comodi su ogni cento ma nelle rune secondarie potete mettere quello che è il bilanciamento del centro nel senso mentre nelle rune primarie andate a mettere la potenza brutta nelle rune secondarie io vi consiglio di pensare cos'è che mi manca però mia mastery per esempio le cure sono fondamentali quindi sai cosa io voglio più cure cacciatore famelico potrei anche volere l'ulti più spesso e che non è una brutta idea è un'ottima idea però no io voglio più cure avere anche l'ulti più spesso sarebbe buono ma io voglio più cure e poi posso provare magari provo e invece avere l'ulti più spesso mi è più comodo che è vero è vero però ognuno può trovare ognuno può provare poi voglio più danni molti usano l'impatto improvviso è vero però io voglio più danni late game non sono tanti in più ma sono quindi capito provate provate esistono le norma nelle norma potete provare 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 e questa sezione qui in fondo ma questa sezione qui in fondo è la più facile di tutti signori è quella che varia di più all'interno di ogni game nel senso per master e essendo un jungler è abbastanza scontata quale sia però per esempio se siete un tank dall'altra parte sono tutti api magic resistance magic resistance fine sono tutti a di armatura armatura non siete un tank bene c'è tanto altro siete un champ che ha bisogno di velocità d'attacco velocità d'attacco vi servono i danni danni vi servono i danni danni vi serve più salute perché state facendo una build sulla salute perché questa nuova idra titanica ha bisogno di tanta salute questa rune qui che vi dà più salute cioè capite vi serve più cooldown reduction velocità abilità gratuito signori le rune sono difficili da imparare a memoria ma una volta che le avete imparato a memoria e che vi tenete aggiornati sui cambiamenti diventa molto facile sapere come utilizzarle e più le provate più vi rendete conto ok questo l'uso questa luna si attiva questa non si attiva è semplice poi cosa fate state facendo delle prove alla fine della partita cronologia della partita andate qua questa partita non sono andato molto bene rune e vi dirà delle mie rune cosa è successo allora non ho sfruttato molto il conqueror il trionfo invece l'ho sfruttato molto bene la lacrità l'ho completata subito quindi molto bene colpo di grazia non l'ho sfruttato molto collezione di bulbi completato il cacciatore famelico beh il cacciatore famelico ha fatto molto bene vabbè la prima prova mi dice che magari conquistatore non è ottimo andiamo in una partita in cui invece ho fatto più kill e qui conquistatore ha fatto bene salute anche il trionfo ha fatto bene ho completato la lacrita prima colpo di grazia ha fatto molto bene il cacciatore famelico ha fatto un lavoro bellissimo ora però basta confrontare solo quello che è il risultato no anche quanto tempo 33 minuti 39 in uno scarto di 6 minuti c'è un guadagno così elevato di statistiche dalle mie rune che dire sono rune buone sono rune da snowball che poi io questa l'abbia persa e questa l'abbia vinta non importa tu devi capire cosa è meglio quindi andiamo su un'altra partita 15 4 qui abbiamo due prove cioè abbiamo due indizi al terzo è una prova conquistatore una guarigione allora il conquistatore c'è da dire che non vi segna quanti danni in più vi ha fatto fare solo la guarigione non è tantissima non è tantissima guarigione sincero il trionfo questo è tanta guarigione l'alacrità completata ancora prima rispetto alle altre due i copri grazia questi sono abbastanza danni non tantissimi ma abbastanza la correzione bulbi è sempre completata il cacciatore famelico sempre completato allora cosa si capisce da qua correzione di bulbi e cacciatore famelico super golosi conqueror ci sta alacrità ottima trionfo ottimo colpo di grazia quindi conqueror e colpo di grazia meh abbiamo una partita in cui non ho usato conquistatore non credo perché uso sempre conquistatore però a fare la prova colletta al tempo eh no infatti a fare una prova colletta al tempo visto che in verità è peggio ci sono tante altre lune che ho provato l'ho provato con il dark harvest l'ho provato con il face rush in conqueror resta la runa migliore a mio dire provate 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 non fatevi problemi detto questo signore e signori queste erano le mie considerazioni finali sulle rune fate un video un po' più breve provate le rune vanno provate è un assetto sono l'assetto con il quale entrate in game sbagliare le rune mi è capitato di sbagliare le rune e entrare in campo con la cometa masteri con la cometa non funzionava ma ci sta che non funzioni il ramo della cometa cioè la cometa come runa principale non serve a niente su masteris fortunatamente è difficile che abbia effetto quindi provate 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 io già lo capivo che la cometa non funzionava ho sbagliato in impostare la pagina di rune nel senso che ho selezionato quella sotto quella masteri quella di masteri e quindi ho avuto la cometa è stata la prova scientifica del fatto che no la cometa non va bene ma il fatto sono un game non è una prova scientifica non riuscivo a fare niente non riuscivo a fare niente ragione per cui no la cometa no non su masteri detto questo signore e signori dato che prima o poi qualcuno con la cometa su masteri asfalterà tutti verrà a dire che cioè proverà che questo mio video in verità è inutile che non accadrà io vi saluto e vi invito ancora a provare 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 meglio una prova in più in normal che una prova in meno detto questo io vi saluto e ci vediamo all'un prossimo video Bella